Ciao, in questo video vediamo assieme una semplice sequenza di posizioni per migliorare la nostra postura, per andare a lavorare con la schiena, con tutti i movimenti che dovremmo farle fare per mantenerla in salute. Iniziamo per prima cosa a sdraiarci a terra. Ora, lasciamo i piedi a terra paralleli, con gli avambracci ci aiutiamo e ci sdraiamo completamente a terra. Qui magari notiamo subito che la nostra schiena non tocca completamente terra, dipende, ognuno di noi ha delle curve leggermente diverse, proporzionate in modo diverso. Per prima cosa partiamo dalla parte lombare, mettiamo le mani a terra, i piedi sono a terra, inspirando solleviamo il bacino, ruotiamo il coccige verso l'alto e andiamo lentamente a riappoggiare la schiena a terra. Avendo fatto questo movimento, ora la nostra parte lombare della schiena dovrebbe essere piatta a terra. Se non lo è ancora, semplicemente solleviamo di nuovo, inspirando il bacino, ruotiamo il coccige verso l'alto e riabbassiamo la schiena a terra. Passiamo alla parte toracica invece. Anche qui cerchiamo di notare se, aprendo il petto, quello che facciamo spesso è buttare fuori le costole. Quello che vogliamo invece è appiattire bene la schiena a terra, quindi le ultime due costole sfingono verso il basso, contraggo leggermente i miei muscoli addominali in modo tale da attirare le ultime costole verso il basso e appiattire anche la parte toracica della schiena a terra. Sollevo le braccia, sollevo solamente gli avambracci, faccio come per muovere le spalle verso le orecchie e poi faccio scendere le scapole lungo la cassa toracica, quindi allontano le spalle dalle mie orecchie. Ora sono con la schiena perfettamente dritta a terra, quindi tutta la mia colonna vertebrale tocca a terra. Da qui rimango nella posizione, solamente le braccia si sollevano, ispirando ed ispirando poco per volta mantenendo la schiena come l'ho prima, come totalmente a terra, porto le braccia a terra, il dorso delle mani tocca a terra. E qui rimango, cerco di controllare perché la tentazione è quella magari di sollevare le costole verso l'alto ma così facendo vado a inarcare la schiena e invece io la voglio stendere completamente. Se il dorso delle mani non tocca a terra non è un problema. Posso iniziare anche con un supporto sotto le mani. Respiro in questa posizione, sento che poco per volta la schiena si stende e i muscoli si allungano. Ora, in ispirando, risollevo le braccia ed ispirando le riporto a terra. Rimango ancora un attimo qui. Poi avvicino i piedi e li sollevo piegando le ginocchia, le afferro con le mani e dolcemente tiro le ginocchia verso di me. Quindi cerco di avvicinare le gambe al mio petto e la schiena è ben piatta a terra. Ora inspiro ed ispirando, contraendo leggermente gli addominali, sollevo la fronte. Cerco di portare la fronte tra le ginocchia. Posso abbracciare totalmente le mie gambe per fare questo. Lentamente lascio andare, torno con la schiena e la testa a terra. Bene. Mi giro su un lato del corpo e mi aiuto a salire. Ok. Ora ci sediamo con le gambe incrociate. Se sedermi con le gambe incrociate mi dà fastidio perché magari non riesco ad abbassare le ginocchia, non è assolutamente un problema. Prendo un supporto che può essere un blocco o qualsiasi cosa che mi dia un po' di volume e mi ci siedo sopra. In modo tale da avere più libertà nel bacino di abbassare le ginocchia. Le mie caviglie devono essere più in basso del bacino. Ok. Anche quando siamo seduti qui, torniamo a controllare la nostra schiena. Quindi cerchiamo di mantenere l'estensione che avevamo prima quando eravamo a terra. Quindi cerchiamo di notare se buttiamo in fuori il petto, attiviamo bene gli addominali, solleviamo le spalle, facciamo scendere le scapole lungo la cassa toracica. Quindi il collo ben steso, le spalle rilassate. Qua solleviamo le braccia e rimaniamo nella posizione. Anche qui cerchiamo di continuare a correggerci. Quindi se vediamo che inarchiamo la schiena, ritorniamo contraendo dolcemente gli addominali. Le spalle sono rilassate, quindi non le sollevo, ma le faccio rimanere lontane dalle orecchie. E respiro. Ok, da qui faccio una torsione, abbasso le braccia, vado a portare il braccio sinistro sulla gamba destra. La mano destra può essere a terra oppure sul mio fianco. Inspirando, allungo ancora una volta bene la mia schiena ed espirando, guardo oltre la mia spalla destra. Non inarco la schiena, cerco di rimanere dritta. La mano destra mi può fare da puntello se sono a terra o da correttore da sostegno se ce l'ho al fianco. E respiro qui. Inspirando, sollevo le braccia, torno al centro e vado dall'altro lato. Quindi mano destra sulla gamba sinistra, mano sinistra a terra o sul fianco. Inspiro ed espirando mi volto a guardare indietro. Gli addominali sono contratti e mi aiutano nella mia torsione e nel mantenere la schiena dritta. Sono molto molto importanti per mantenere una postura corretta, per avere la forza di sostenere bene la nostra colonna vertebrale. Inspirando, mi sollevo al centro e ispirando porto le mani nuovamente a terra. Ora da qui faccio una flessione laterale, posso rimanere sempre sul mio blocco se mi serve. La mano destra rimane a terra, il braccio sinistro si solleva, inspirando. Stendo, stendo bene la schiena, allungandola ed espirando mi inclino verso destra. Non cado con la spalla verso il basso, ma cerco di aprire il petto. Guardo verso l'alto e mi stendo, come se volessi raggiungere qualcosa con la mano sinistra. Posso rimanere sulla mano o posso scendere sull'avambraccio. Ma l'importante è sentire l'estensione del lato sinistro. E rimango con gli ischi bene a terra o sul mio blocco, quindi non mi sollevo da una parte. Respiro. Ispirando, risalgo al centro. Riporto entrambe le mani a terra, la stessa cosa dall'altro lato. Quindi sollevo il braccio destro, allungando come se mi tirassi verso l'alto. Ed ispirando poco per volta, non è importante quanto scendo, è importante estendere bene il lato destro del mio corpo. Guardo verso l'alto, apro il petto, mi allungo, do un'intenzione alla mia posizione, che è quella di muovermi verso sinistra. Ora, sono seduta a terra, gli ischi entrambi toccano terra, ho il mio supporto. Respiro qui. Inspira. Stendi la schiena ed espira entrambe le mani a terra. Ok. Ispirando, solleviamo nuovamente le braccia verso l'alto. Ed ispirando, portiamo le mani a terra di fronte a noi e iniziamo a muoverle più in avanti. Saliamo sui polpastrelli e abbassiamo la fronte verso terra. Anche qui non è importante arrivare a toccare terra con la fronte, ma è importante stendere bene le braccia, allungare bene la schiena. Sento se posso muovere un po' più in avanti le mie mani, se posso stendere un po' di più la mia schiena. Poco per volta, muovo le mani nuovamente verso le mie gambe e risalgo. Bene. Ok. Se sono seduta sul supporto, lo tolgo. Mi porto con la pancia a terra. Vado a portare gli avambracci a terra e noto che devo allineare il gomito con la spalla. La mano bene a terra, quindi non sono voltata da una parte, non ho solo una parte della mano, ma tutta la mano è bene a terra. Quindi, gomito spalla, mano bene aperta a terra, le braccia aperte alla larghezza delle spalle. Il mio bacino è a terra, il collo del piede è a terra. Con le mani ho l'intenzione di tirare verso di me il tappetino, quindi avvicinarlo verso di me, mentre il petto ha l'intenzione opposta. Quindi il petto si muove in avanti, mentre le mie mani tirano indietro. Le spalle sono lontane dalle orecchie e guardo di fronte a me. E respiro qui. Rimango, questa è la posizione della sfinge, rimango in questa posizione aiutandomi proprio con l'intenzione. Non sono solamente nella posizione, ma la mantengo con intenzione. Quindi continuo a muovere leggermente e approfondire poco per volta la posizione. Ok, benissimo, porto una mano a terra e poi l'altra mano a terra. Apro i piedi alla larghezza del mio tappetino, vado a intrecciare le dita delle mani dietro la schiena. Se riesco unisco i palmi delle mani, altrimenti li lascio semplicemente con le dita intrecciate. Fronte o aumento a terra, ruoto le spalle indietro, quindi prima le sollevo verso le orecchie, faccio scendere le scapole lungo il costato e stendo le braccia. Il petto si apre e ho la possibilità di sollevare la testa da terra. Aprendo bene e respirando qui non trattengo mai il respiro. Guardo di fronte a me. Inspiro, torno con la fronte o il mento a terra. Lascio andare le mani e porto un lato del viso a terra. Rimango un attimo in questa posizione. E poi ritorno. Fronte o aumento a terra. Intreccio le dita delle mani dietro la schiena. Ruoto le spalle indietro, allungando il collo, stendo le braccia. Sollevo il petto. Non è importante quanto mi sollevo, ma di stendere bene le braccia, allungare bene il collo e sentire che il petto poco per volta si apre. Ora attivo le mie gambe, punto i piedi e vedo se posso sollevare un po' anche le gambe. Respirando qui. Inspira ed espira. Poco per volta sciogli. E portiamo l'altro lato del viso a terra. Ok, da qui metto le mani a terra. Unisco nuovamente le gambe. Con le mani mi spingo per sollevare il busto. Mi siedo sui miei talloni, nella posizione del bambino. Quindi sono sotto sui talloni. La fronte va a terra, le braccia si stendono indietro, lungo il corpo. Porto le mani a terra e poco per volta mi aiuto a risalire. Bene, abbiamo visto in questa breve sequenza tutti i movimenti principali della colonna vertebrale. Quindi abbiamo visto come stenderci bene, avere la schiena ben dritta, quali parti andare a regolare. Abbiamo visto le torsioni, le flessioni laterali, i piegamenti in avanti e anche indietro. Ognuno di noi ha ovviamente una colonna vertebrale diversa, abbiamo una struttura diversa, una storia diversa e magari una situazione particolare. Quindi possiamo fare questi esercizi ma ovviamente ascoltando il nostro corpo. Quindi prendiamoci il tempo per farli, provarli, ascoltare, sentire se possiamo approfondire una posizione o se dobbiamo fare un attimo un passo indietro. Facciamo yoga per il nostro benessere. Quindi dobbiamo ascoltare il nostro corpo. Noi ci vediamo al prossimo video. Namaste. Grazie. Grazie.